Mi è Ted, un cittadino di lavoro e una famiglia di famiglia. Ciao Ted! Che è un gioco odioso, cioè è una cosa allucinante, però vorrevo provarlo. Allora per iniziare prendiamo sta roba dove c'è già tutto e mettiamo difficoltà easy perché io sono un nabbo a giocare a questo gioco, cioè io non so giocare, l'ho installato da pochissimo. Quanto anno è? Allora, bisogna andare qua perché mi voglio andare lì. Allora, il primo giorno non si dà mai niente da mangiare. E allora è dovuta bere a lei, a lui, a lui e a lei, è dovuta mangiare a lei. E la mandiamo in spedizione. Giorno 4 Deve essere molto, però c'è tutto. Giorno 7 E gioco, dai. Così vi divertite un po' a giocare a carte. Giorno 8 È tornata. Mi ha portato una malattia. E non hai portato niente? Sì, due bottigliette d'acqua. E due di cibo. Oh, la madonna. Sì. Allora, lei ha fame e ha sete. Prepariamo qualcuno per la spedizione. Timmy Fuori. Volevo mandarlo con l'ascia, però. Giorno 10 10 giorni qua dentro. Si vuole sparare. Si vogliono suicidare. 15 Sì, è tornato il figlio. Ecco, io curerei il figlio più che la figlia. Cosa ha portato? Non ha portato nulla. Usiamo per lui il medikit. E prepariamoci per la prossima escursione. Mandiamo fuori ancora lei, però è probabile che muoia. Dove darei prima da mangiare e da bere. E non è più possibile usare il medikit. Però è probabile che ci porti qualcosa. A bere tipo a Timmy. Non so, giocate con questo. Però Timmy è più scattante. Più scattante. Più uno. A Tim. È arrivato qualcuno. Ah no, è uscito. Siamo rimasti due. Siamo messi male. Sono messo molto male. Oddio, non l'ho letto bene. Quindi ho dato via il fucile. Ho fatto uno sbaglio. Non so se la vincerò. È entrato qualcuno. Il figlio. La figlia è morta. Lui è messo male. Lui è messo male. Lui è messo malissimo. Dimissimo. Madonna! Ci ha portato tantissimo. Pure la maschera. E allora si festeggia. Abbiamo tutti da mangiare. Un mese. Che cacchio si è fatto lui? Orto. Pace, muoiono tutti. A lui e a lei serve l'acqua. Non posso mandarli fuori. Io dico di sì a caso. Magari fa qualcosa. Giorno 30 qua. A meno che rischio mando Dolores. Sì, mandatelo Dolores. E lui buonanotte. Lei? E lui muore. Questa la perdiamo. No, 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 no. Cioè, mi sa che vogliono andare fuori questi. No, no, no. È tornata. Eh, ma sta male da parte a uno. Eh, ma attaccato tutto. Sta male da parte a uno, però. Oh, più una. Non la portato l'altra. Non è rimasta solo la moglie. Non aprire la porta. Abbiamo finito l'acqua. Se non torna. Abbiamo perso, raga. Non abbiamo più cibo. Se solo mi dicesse di aprire la porta, io la aprirei. bella partita, ragazzi. Siamo morti. Non abbiamo più acqua. Siamo arrivati fino al giorno 58. Eh, sì, raga. Abbiamo perso. Però bella partita, eh, ragazzi. Mi è piaciuta questa partita. E niente, ragazzi. Per... Allora. Questo video direi che termina qui. Lasciate 10 pollicioni su se volete vedere un altro episodio di 60 Seconds. E niente. In descrizione trovate tutti i miei social. Trovate il mio canale YouTube. E noi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata. E ciao da Free Bomber. Ciao. 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 Grazie a tutti.